Mi affascina Saviano, se è possibile dirlo, non leggo e non guardo Saviano. Dico che il Sud per tantissimi anni ha vissuto di assistenzialismo, ha vissuto di logiche clientelari, non per colpa delle popolazioni del Sud che sono e sono state vittime di questo sistema, ma per una responsabilità delle classi politiche. Io credo che serva un principio, che è il principio della responsabilizzazione, della responsabilizzazione della classe politica, a nord e in modo particolare a sud. Tanti soldi sono stati dati, il problema non è i soldi che vengono dati, ma come questi soldi vengono spesi. Devo andare a tutto con la pubblicità. Il principio di responsabilizzazione si chiama federalismo.